Commerciale 90, volume 75 Mixa e seleziona Cavaliere DJ Vai, vai, ci siamo! Si parte sempre alla grande! Prima la cassa e poi il basso! Vai! Come on! 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 High five 5 Sagittarius! Come on! Come on! Come on! Atenzione al prossimo! Oioidezzo! Memorizzare la fuerza pagana! Atenzione al prossimo! Buongiorno a tutti i miei iscritti e tutti i miei amici del mio canale! Oioidezzo! Un grande abbraccio al nostro cavaliere DJ! Come già le 90 volume 75! Atenzione al prossimo! 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 Pagana! 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 Oratoli fuori! Oratoli fuori! Oratoli fuori! Camino di forza! Dio campo sul stomaco La pausa di nuovo si sale piano piano, pausa vocale che non fa male, si riparte, si riparte. La pausa di nuovo si sale piano, pausa vocale che non fa male, si riparte. Pagana, pagana, pagana.